Queste due vittorie ci mettono in una buona posizione di classifica. La forma c'è, adesso ci deve essere l'ambizione di fare ancora meglio. No, adesso dobbiamo stare con i piedi per terra e continuare a lavorare come stiamo facendo, è la cosa più importante. La partita col Cagliari che incontro sarà? Noi cerchiamo di preparare bene la partita questa settimana e cercheremo di fare bene. I tifosi ti hanno votato migliore in campo della partita contro la Sampdoria, che è anche la tua vittima preferita perché fai sempre gol alla Sampdoria. Fa piacere se i tifosi mi riconoscono queste cose, io penso solo a lavorare e alla squadra. Comunque fa molto piacere sentirsi dire queste cose qua dei tifosi. Ci racconti il tuo bellissimo gol, che è uno dei gol più belli del nostro campionato finora? No, Simone è stato molto bravo a mettere quella palla lì, poi sono stato fortunato, ero lì e ci ho provato e ho fatto il gol, sono contento. Non sei stato fortunato perché è una cosa che provate molto spesso. Erano due anni che il Bologna non faceva un gol sul calcio d'angolo, quindi è stato molto importante. Sì, è stato molto importante, adesso cercheremo di lavorare ancora per farne altri gol sul calcio d'angolo.